Al via la seconda edizione del premio giornalistico Estra per lo sport, promosso in collaborazione con l'Unione Stampa Sportiva Italiana, che sarà presentato il prossimo 20 ottobre a Firenze, in Palazzo Vecchio. Estra con il Venezia Calcio. Il gruppo energetico è diventato Energy Partner della società Nero Arancio Verde per la stagione di Serie B 2017-2018, con il marchio Estra stampato sui pantaloncini della squadra. Estra Clima rende più efficiente l'Acqua Verna. La società di Estra ha realizzato un intervento che migliora l'efficienza energetica dello stabilimento di imbottigliamento e riduce le emissioni in atmosfera. Estra, con la controllata EDMA, completa l'installazione del metano a Magione, comune perugino sul lago Trasimeno. Nel 2018 sarà completato l'intervento nelle frazioni di San Feliciano e Monte del Lago.